Il potere al popolo può essere una lista veramente alternativa? Certo, è alternativa perché sia nelle modalità di costruzione della lista, ma soprattutto nel programma e negli uomini e nelle donne che schiera, è alternativo sia al sistema di potere dominante, ma anche a tutti coloro che si presentano come opposizioni, ma che in realtà spulciando i programmi e spulciando soprattutto quello che stanno dichiarando in questi giorni, ossia che dopo le elezioni, quale che sarà il risultato, faranno una sorta di governo di unità nazionale, di grande coalizione, come usa chiamarsi adesso, credo che rispetto a questo scenario poter al popolo è veramente l'unica forza alternativa. Quali sono i punti principali del vostro programma? I punti principali del nostro programma variano un po' su tutto l'arco di quelle che noi definiamo le contraddizioni sociali. Si parte quindi naturalmente dal primo punto che riguarda le condizioni di vita e di lavoro, quindi il tema del lavoro, della lotta alla disoccupazione, alla dilagante precarietà, al super sfruttamento, particolarmente qui al sud dove viviamo sia un processo storico di distruzione dell'industria, di posti di lavoro, ma viviamo anche un fenomeno particolarmente odioso che è quello del lavoro nero ma sano sottopagato. Su questi punti poter al popolo richiede la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario che significa apertamente fare nuove assunzioni, sbloccare le piante organiche, dare vita a quel lavoro utile e dignitoso per tutti che è un po' la chiave per combattere sia il degrado e soprattutto per far vivere meglio gli uomini e le donne. Poi naturalmente sono i temi ambientali, i temi del risanamento dei nostri territori che come è noto sono stati martoriati nei decenni alle nostre spalle, il tema dei rifiuti tossici, il tema degli inceneritori, il tema dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, sono tutte questioni che a noi di potere al popolo stanno al cuore e contro le quali ci battiamo per rivendicare veramente delle bonifiche fatte bene, curate da scienziati, curate da uomini che si iningali di garantire la qualità del lavoro e non invece da parte magari di quelle stesse ditte, di quelle stesse multinazionali che prima hanno inquinato e poi si candidano a disinquinare. Questo è il nostro bene e soprattutto noi chiediamo che paghi chi ha inquinato, cioè le grandi imprese, le grandi multinazionali devono accollarsi il costo delle bonifiche perché da solo le amministrazioni locali, le regioni non ce la fanno, è un risarcimento che ai cittadini napoletani spettano, ai cittadini della Campania spettano perché questa è una terra martoriata da tumori, da malattie oncologiche che sono il frutto di questo tipo di inquinamento. Oggi incontro con Melasciano che esito ha avuto? Il incontro con Melasciano è positivo perché dimostra che il potere al popolo non si chiude nell'ambito del territorio italiano ma guarda l'Europa perché dall'Europa, o meglio dall'Unione Europea, perché noi non siamo contro l'Europa, noi siamo contro quest'Unione Europea che è un'Unione Europea che obbedisce agli ordini della BCE, della Banca Centrale Europea o obbedisce agli ordini delle grandi multinazionali che anche nel nostro paese saccheggiano i nostri territori, comprano i marchi, prima li fanno fallire poi con i marchi, in questi giorni proprio il treno Italo, la catena Italo delle Ferrovie è stata sussunta da una multinazionale americana. Unione Europea impone attraverso lo strumento dei trattati delle politiche che noi definiamo apertamente di austerità e di macelleria sociale che penalizzano le condizioni dei lavori, penalizzano le condizioni delle amministrazioni locali sono politiche di guerra perché non dimentichiamo che l'Unione Europea proprio in questi giorni attraverso l'accordo franco-italiano hanno convinto al governo italiano di partecipare in Niger con una nuova spedizione militare, quindi con una spedizione che costa decine, centinaia e milioni di euro che sono distolte dalle spese sociali e traghettate a quelle militari. Quindi l'incontro con Mianachon serve ad aprire o dire il popolo alla prospettiva della lotta all'Unione Europea e soprattutto della lotta contro la Nato, contro gli strumenti di morte che sul piano internazionale vengono imposti al nostro paese e che noi anche attraverso il voto per il potere al popolo al 4 marzo dobbiamo riuscire a ribaltare. Grazie mille! Grazie a tutti.